Ecco qui la nostra mini cucina, è dell'IKEA. Adesso andremo a colorarla e faremo anche qualche modifica. Iniziamo subito. Una volta smontata la cucina posso colorarla. Questi sono i colori che mi hanno inviato e che andrò ad utilizzare. Inizio prima col colorare le parti con questo color oro, alcune parti le coloro rosa e altre invece col colore bianco. Mentre le parti colorato di oro si asciugano vado adesso a colorare questa superficie qui con il bianco. Ho dato già due mani di bianco, ho rimosso le ante e adesso le vado a colorare di rosa. Una volta colorati tutti i pezzi termino applicando una vernice protettiva ultra trasparente. Ed eccola qui. Come vedete l'abbiamo rimontata. Adesso andrò a mettere dei pomelli là sotto, sopra questa antina di sinistra e un gancio. c'è tutto l'abbiamo. ed ecco qui la cucina terminata spero che il video vi possa essere d'aiuto magari per un qualche vostro progetto di fai da te io vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo al prossimo ciao 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 ciao